una fatica immensa diciamo che il mio outfit esprime appieno il mio stato d'animo ho iniziato a guardare la partita con maglioncino giubbetto perché sentivo freddo e l'ho finita così con la maglietta della salute mamma mia a proposito di salute così me la levano così me la levano così me la levano ma signori miei signori miei ognuno ha la propria condanna io questa me la sono scelta da piccolo e quindi sapevo cosa forse andavo incontro lo sapevamo e poi alla fine della gara è anche bello vivere una gara del genere è anche bella no farsi travolgere da queste emozioni contrastanti da un avvio folle da una leggerezza insostenibile e inaccettabile ma poi una reazione una vemenza una forza un voler rimettere a posto le cose che che un po cancella tutto ma dobbiamo provare a dirla a dirla pieno la dirla pieno e quindi non cancelliamo non cancelliamo parliamo parliamo di tutto di tutto e di più allora sicuramente come al solito una folla importante una folla che trascina anche anche per quanto riguarda i nerazzurri 70.000 sugli spalti diciamo è tanta 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 roba e forse questo questo ti riaccende ti riaccende anche nel momento più buio anche nel momento più basso e questo secondo me fa la differenza ma non è comunque come dicevo prima ammissibile un inizio un avvio così leggero 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 che cose che non posso capire poi da gente anche esperta da gente esperta come la nostra retroguardia ragazzi tra De Vrij nel primo nel primo gol una leggerezza qua a difesa no quasi a difesa piazzata a difesa piazzata il l'attaccante Pinamonti bravo lui per carità ma in mezzo ai due mezzi due centrali che riesce tranquillamente a impattarla si fanno troppo troppo facile il secondo gol peggio mi sento morire peggio 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 ancora secondo gol devrai proprio con annesso tiro sotto le gambe di Andano che poi quando le cose devono andare male chi lo diceva un certo marfio quando una cosa può andare ma statene certa che va va così sotto 2 a 0 poteva essere una botta proprio definitiva invece invece così non è stato e per chiudere il discorso gol subiti devrai in calo eh devrai ripeto con noi tanta roba monumento serietà signorità tutto quello che vi pare un momento un po di calo lo 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 percepisco lo percepisco anche perché quando poi ti trovi un altro centrale che si chiama screener e vedi che giocatore è e vedi quello che ti combina anche l'occhio in maniera cioè in maniera cristallina vede delle differenze no vedi la differenza di reazione proprio quella di di reazione di reazione allo stimolo non reazione un risultato reazione allo stimolo come ti va a attaccare come ti ma come come sta lì sta lì col fiato e l'attaccante ha paura ti azzanna uno di questo e il terzo gol è tutto suo è con annesso 15 20 20 per cento di lautaro che poi ci arriviamo poi ci arriviamo al caro lautaro martinez ci arriviamo e dice la reazione come al solito e poi sai sotto di due gol frenesia frenesia ce n'era e frenesia ce n'era è quello che più mi dispiace e che vedo ripetersi nel corso della nostra stagione e che arriviamo e arriviamo anche con tanta facilità ma poi tanti tocchi tricche tracche tricche tracche tricche tracche anche danfris in una circostanza nell'aria piccola ancora all'ennesimo passaggio in mezzo si tira si tira si sbaglia amen ma si tira in tribuna amen ma si tira e si deve tirare e non 50 mila tricche tracche tricche tracche tricche tracche non tira si deve tirare punto punto in tutto ciò un paio di episodi che faranno discutere già ho letto di tutto e di più sui social ho letto la fine del mondo l'apocalisse che si è abbattuta sul sanzito no di tutto e di più due 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 episodi molto discutivi il primo edivore non concesso no prima prima dato e poi revocato dall'arbitro lì non c'è neanche da discutere nulla spinta a due mani del difensore su barella e tuffo il tuffo di barella su quell'episodio basta analizzarlo non è proporzionale alla spinta cioè si vede un qualcosa che non è proporzionale quella per me simulazione per me è molto semplice il discorso per me simulazione lì va ammonito il giocatore non è che puoi dire che non è rigore o lì è rigore perché tu ravvisi che c'è una cosa e allora o una roba del genere è munizione molto facile per simulazione non dobbiamo avere paura di dire cose come stanno o come sono no il problema è che non la dame nessuno e allora la gente continua a fare queste robe qua e reclamare anche per un tenue tenue tocco di braccio che forse c'è non c'è il tocco l'altro episodio che fa e farà tanto discutere il fallo il presunto tale fallo di barella in mezzo al campo ecco io ho visto l'ho rivisto l'ho ancora visto l'ho intravisto l'ho rivi l'ho rivi guardato e vedo 50.000 volte una situazione che non mi è chiarissima però provo a dare la mia interpretazione sentiamo la vostra la mia interpretazione è che la palla è sospesa la palla non è nei piedi di come si chiama aslani e quindi di conseguenza barella che è l'orandella come in tanti stanno dicendo per come la vedo io la palla era sospesa barella con molta velocità e rapidità è arrivato prima sulla palla fateci caso aslani quella palla non la tocca mai fateci caso aslani quella palla non la tocca mai questo questa è la mia visuale per cui per me è giusto così per me per cui è giusto così che poi di queste robe tocca non tocca tocca prima la palla abbiamo visto il calcio in europa ragazzi l'abbiamo visto di recente e ci piace ci piace ci piace no che deve andare la palla deve però poi siamo tutti a reclamare il minimo contatto e ripeto aslani per me la palla non la tocca mai in tanti diranno ma tu oggi sei faccio io ti dico quello che penso come ho detto prima di barella sul tuffo che fa io vi dico quello che penso e quello che ho visto secondo i miei occhi la palla è sospesa la palla non ce l'ha aslani prova a prenderla con un lob so che cavolo voleva fare ma barella ci arriva prima mi sembra mi sembra così per me ma visto che gli episodi li lascio agli altri perché ripeto chi vuole discutere chi vuole andare a buttarla sempre sull'episodio lo farà quindi non si parlerà della partita non si parlerà del fatto che l'inter poi ci ha provato in tutti i modi e che altro tre gol oggi oggi sono incazzato da morire perché oggi anche oggi la partita doveva finire 6 a 2 6 a 3 se vogliamo ma doveva finire 6 a 2 6 a 3 e noi abbiamo fatto solo tre gol perciò io resto incazzato da morire perché ne abbiamo fatto solo tre no ne abbiamo fatto quattro scusa che poi nel finale è arrivato il gol chiedo scusa nel finale è arrivato il gol di sanchez l'avevo proprio rimosso io sono rimasto lì sul 3 a 2 quindi ma sono cazzato lo stesso perché non potevamo fare molti di più mi è piaciuto l'approccio del secondo tempo la gara giocata nel secondo tempo no senza troppa frenesia no con la consapevolezza che da un momento all'altro con pazienza con calma la rete arrivasse secondo tempo ben fatto mi è piaciuto tutto il secondo tempo mi è piaciuto da morire da morire ben fatto e complimenti calorosi all'autaro martinez che quando in questo momento no che quando trovo un gol da rigore così in un modo o nell'altro si sblocca questo ragazzo che quando poi è libero di testa fa la differenza fa la differenza quindi non me lo toccate l'autaro martinez non me lo vendete perché sento sempre dei rumor se non lo voglio venduto mai un giocatore del genere mai avrà quel mese 2 di appannaggio ma quando ritorna è un fiore bellissimo sto ragazzo è un fiore bellissimo e i gol pesano eh quelli di oggi pesano eh specialmente quando fai fatica a trovare pesano eh e poi nota dolente e chiudiamo Correa Correa ragazzi miei io ripeto io a volte penso che so io e dico ma sei tu un eschio forse l'hai puntato no hai visto che era un investimento importante perché 30 35 cucuzza non è roba da poco visto il mercato che abbiamo fatto no e allora forse sei tu un eschio che sei esigente ti prego Correa tappami la bocca cucimela ma cucimela suon di gol cucimela io c'ho io c'ho voglia di essere preso e perculato da te a suon di doppiette e triplette ma perculami però se continui così a percolarti saranno gli altri questo è il problema perché Correa ragazzi mi hai fa una fatica enorme fa una fatica enorme fa una paradossalmente molto più bravo senza palla perché senza palla fa i movimenti giusti libera i compagni di gioco io ste cose le noto non è che non le noto però con la palla fa una fatica in mane fa una fatica e poi non segna perché poi l'attaccante possiamo parlare di quello che l'attaccante deve anche segnare e non segna e non segna e ripeto oggi vinci a posto finché vinci a posto ma poi quando non vinci e poi poi so cacchiamare questo è vabbè ripeto cucimi la bocca io sono il primo contento se questo mi cuce la bocca io sono contentissimo e chiudo con l'Empoli onore complimenti complimenti agli avversari e complimenti e la cosa che mi sta piacendo da morire è che tutti se giocano le loro partite salvezza acquisita ancor meglio se la vanno a giocare con libertà con tranquillità complimenti non ti regalano nulla non ti regalano nulla si fanno la loro partita bene così benissimo così applausi senza ombra di dubbio un grande abbraccio da Neschio mamma mia